Che aria tira? Vogliono scoprirlo i comitati di cittadini genovesi che hanno avviato una rete di monitoraggio popolare dei fumi del porto. Ci spiega come funziona Eliana Miraglia. Sul terrazzo dell'abitazione di Filippo c'è una delle centraline della rete di monitoraggio popolare che ha il compito di controllare i fumi del porto, in particolare le concentrazioni di polveri sottili PM10 e ultrasottili PM2,5 emesse dalle navi in sosta nel porto con i motori sempre accesi. Queste piccole scatolette, progettate e realizzate dall'Associazione Mamma Noi Incineritore di Firenze, acquistate dai comitati di Palmaro, tutela ambientale di Genova e Genova Centro-Ovest, sono dislocate in via Milano, via Pravia, di Nocol, sopra due centraline Arpal e una Bogliasco scelta come località di controllo. Le nostre centraline che sono più flessibili dell'uso proprio per le loro dimensioni potrebbero permettere di integrare la rete ufficiale fornendo comunque informazioni complementari utili per capire l'entità del fenomeno. Il progetto che si avvale della consulenza scientifica dell'Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova durerà un anno, ma i dati registrati in continuo sono accessibili a tutti anche con un cellulare collegandosi al sito che aria tira. L'obiettivo finale è quello di sensibilizzare i cittadini, le autorità, gli armatori, in attesa dell'elettrificazione delle banchine, la sola soluzione che consentirà alle navi di spegnere i motori quando sono in sosta. Noi ci aspettiamo un 10-15%, insomma non sono cifre importanti, ma dato che le polveri sottili sono pericolose a qualunque concentrazione, anche sotto i limiti di legge, tutto quello che è possibile recuperare ben venga per la salute di tutti i cittadini.